Al suo settimo anno il rally della Madonnina dei Centauri sta superando se stesso. Undici nazioni e l'Italia e il fiore dell'Italia, Trieste, hanno mandato ad Alessandria 3.500 partecipanti. Via per Castellazzo-Bornira! Centauri e anche gli uomini della polizia stradale. Scortano Sua Eccellenza il Vescovo di Alessandria Monsignor Gagnor. Riburgo ha mandato squadre in costumi da spazzacamini. Forse perché sulle montuose vie della Svizzera s'arrampicano per l'asfalto color di cenere. Il sottosegretario De Martino accoglie il Vescovo e le autorità sul piazzale della chiesa. Questo è il santuario dei moderni cavalieri del motore. Qui li aspetta la loro patrona che con divina ubiquità li ha vegliati lungo le rotabili. Un rappresentante per ogni nazione entra in chiesa, avanzano in punta di ruote. La benedizione si diramerà per le vie d'Europa e del mondo. Promessa di tutela per chi sta in sella e per chi va a piedi. Grazie. Grazie.